Amici del sito Gianluca Rossi.it, del canale YouTube Gianluca Rossi TV, ben ritrovati. Ho analizzato nell'ultimo editoriale la posizione di Antonio Conte, che come vi ho spiegato è una posizione che non mi piace in questo momento, quindi non è che non si possa criticare l'allenatore, io contesto quando ad ogni partita si comincia a dire questo out, quell'altro out, infatti il mio più grande desiderio è che out siano quelli che ragionano così. Non è quello il pubblico a cui mi rivolgo, non è quello il pubblico distruttivo alla quarta giornata. Ho segnalato io per primo che la situazione è molto grave, perché indubbiamente la partenza dell'Antonio Conte allenatore, che ci ha sempre abituato molto bene, è inferiore alle attese. Adesso non so se è la peggiore, però se volete poi andare a vedere le statistiche vi consiglio come sempre l'app OneFootball, dove trovate dal punto di vista statistico un pochino tutto quello che sta succedendo. Certamente ho analizzato nell'ultimo editoriale, io per primo, un Conte che sembra diverso rispetto a un po' di tempo fa. Vi ho spiegato che una volta guardavo sia la partita dell'Inter sia la partita di Conte, che sembrava in panchina giocare con noi. Adesso mi pare che il suo atteggiamento prima, durante e dopo le partite, improntato forse del political correct che gli hanno imposto, mi fa perdere però l'idea che Conte sia quello che conosco, quello che comunque deve dare una strazzata alla squadra. Però, francamente, sarebbe ingeneroso, e secondo me anche stupido e semplicistico, soffermarci solo sulla posizione di Conte. Sapete che io dico sempre che in campo ci va la squadra. Siccome siamo alla vigilia di una partita che è diventata fondamentale in Champions League a col Borussia Mönchengladbach, poi con tutto quello che ha anche come significato storico e con un grande ospite, l'analizzerò poi nel prossimo editoriale, io vorrei però soffermarmi anche sui guai della squadra, su alcune cose che non mi stanno piacendo della squadra, che bisogna avere il coraggio di dirle, perché come si critica Antonio Conte, ed è legittimo criticarlo, dobbiamo criticare però anche quelli che vanno in campo. E allora quello che francamente sto vedendo, e mi rifaccio a un grande libro in malavoglia, uscito nel 1881 di Giuseppe Verga, ecco per me in malavoglia dell'Inter in questo momento sono soprattutto tre, Brozovic, Perisic e perdonatemi anche se io lo stimo tantissimo, Eriksen. Nel romanzo di Verga, in malavoglia è un soprannome per contrapposizione dato alla famiglia Toscano per chi l'ha letto, perché in realtà erano dei grandi lavoratori e diciamo che si usava a dare il soprannome per contrapposizione. Mi spiace dire che invece che nel caso dell'Inter, mi spiace dirlo, qui in malavoglia, Perisic, Brozovic ed Eriksen, mi spiace tanto dirlo, è il soprannome assolutamente azzeccato, perché a me sembra che questi tre in particolare, al di là del minutaggio, di tutte le scuse, beh ma se non hai fiducia in me e gioca lui, mi sembra che il soprannome sia quanto mai azzeccato. Cioè all'Inter noi abbiamo tre malavoglia e io tutto questo lo dico non per dire via questo, via quell'altro, via quell'altro ancora, perché tanto tutte queste valutazioni che ogni giorno si fanno di mercato eccetera non hanno alcun senso. I tre malavoglia dell'Inter, Brozovic, Perisic ed Eriksen, non stanno dando, devo dire, a questa squadra il contributo che ci si attendeva. Cominciamo naturalmente da Perisic, Perisic è quello che ha fatto il triplete col Bayern, secondo me è un giocatore indubbiamente di caratura europea, è uno che probabilmente deve sentire la fiducia, però siamo tutti bravi a rendere quando sentiamo la fiducia, io credo che quelli di voi che nella vita si confrontano ogni giorno col mondo del lavoro, probabilmente gli sia capitato di non andare d'accordo col capo, di subire situazioni di mobbing. Bene, se bastasse questo per fargli incrociare le braccia, scusate, ma non è professionale, non è un atteggiamento professionale. E siccome credo che molti di voi che si alzano tutte le mattine e si fanno un mazzo così non abbiano questo atteggiamento, ma professionalmente fanno quello che devono fare, io credo che sia lecito chiederlo anche ai tre malavoglia dell'Inter. Quindi Perisic ha fatto il triplete, non è stato curiosamente riscattato dal Bayern, adesso è tornato all'Inter e all'Inter deve rimettere giù il gruppone, quindi è troppo comodo dire beh però su quella fascia insomma io non sono adatto a coprire Kolarov, se devi giocare tu per favore dai una mano a Kolarov, ovviamente ferme restando poi le responsabilità di Kolarov. Se poi passiamo voglio dire agli altri due, francamente Brozovic non è la prima volta che finiva sul mercato, non troviamo queste scuse, fu addirittura fuori rosa, tempo dietro, ha sempre recuperato tanti anni che qua, adesso non mi ricordo neanche da quanti anni è qua, ha avuto problemi poi anche voglio dire con Mancini con Spalletti, ha sempre saputo però in ogni caso professionalmente, lo riconosco, riprendersi il suo ruolo, anche se magari non era sempre felice e fare la sua parte. Francamente per come lo sto vedendo in queste partite non mi è piaciuto per niente, la marcatura di Cialanoglu nel derby è una roba che non si può vedere, marcatura a distanza, molto a distanza e qui dobbiamo metterci d'accordo anche su questa dicotomia, su questo contrasto che continuiamo a istituire tra Brozovic e Dericsson che poi alla fine giocherà Sensi, perché se vanno avanti così gioca Sensi, come è giusto che sia. Eriksen è un grandissimo giocatore, chi lo nega? Un grandissimo giocatore, lo vediamo in nazionale, abbiamo visto il Tottenham, bene all'Inter mi spiace ma nel derby è entrato quasi per fare un piacere o per fare un dispetto a seconda dei punti di vista, quindi dobbiamo metterci d'accordo delle due l'una, o non sente fiducia a Brozovic ma non lo capisco visto che è la prima scelta sempre tra i due, o non sente fiducia a Eriksen, non possono non sentire fiducia a tutte e due. E anche se non sentissero fiducia a tutte e due, a in malavoglia, loro due e Perisic, chiedo finalmente di mettere giù il gruppone, perché di gente non professionale all'Inter ne abbiamo già avuto abbastanza e non la rimpiango per niente, chiaro che il pensiero vada a Icardi e a quell'altra che ogni volta non vedono loro, appena le cose vanno male, di ricordarci che solo loro amavano l'Inter, ma ormai anche i più sproveduti hanno capito che amavano solo loro stessi. Bene, all'Inter credo che sia lecito chiedersi al di là della classe e delle possibilità di ognuno di avere gente professionale, Brozovic, Perisic ed Eriksen, scusate, li chiamo in malavoglia e non per contrapposizione come nel libro di Giovanni Verga, li chiamo in malavoglia perché secondo me non hanno voglia ed è una cosa gravissima, è una cosa in questo avvio di campionato gravissima. Devo aver detto una cosa talmente grave che qui stanno suonando le campane, però ragazzi l'Inter è fatta di professionalità, l'Inter deve essere fatta prima di tutto di gente che ha voglia di onorare questa maglia, siccome dal punto di vista degli ingaggi quando si ritira lo stipendio le persone normali il 27, i calciatori più o meno lo ritirano a metà mese, credo che non siano prontissimi, ecco a me sembra che con tutte le attenuanti, diamo sempre la colpa ad Antonio Conte per tutto, sia Antonio Conte di quanto, Antonio Conte di là, loro non hanno l'atteggiamento, l'atteggiamento accettabile, nemmeno in presenza di errori dell'allenatore, ed è per questo che francamente mi attendo di più da questi tre giocatori, perché se no è molto facile come andrà a finire, se starà bene sempre Sensi e Barella non gli si può dire niente come impegno, un ragazzo straordinario e Vidal, tutto possiamo dire su Vidal tranne che non si impegni, credo che né Brozovic né Eriksen in questo confronto a distanza che continuiamo a istituire non giocheranno né uno né l'altro. Anzi vi dirò di più, anche complice questo semi lockdown che farà chiudere i locali un po' prima purtroppo per Covid, è facile che se Nainggolan si mette in testa magari non andare a letto ogni volta alle 3 del mattino ma a mezzanotte, possa essere Nainggolan invece la prima scelta di questi due e magari scavalcarli in gerarchia, cosa che adesso non è. quindi mi va benissimo, ho fatto un editoriale chiedendo ad Antonio Conte di tornare ad essere se stesso, di tornare a concentrarsi sul pezzo e lo confermo, perché Conte ha indubbiamente come guida della squadra le sue responsabilità. Però ragazzi è troppo comodo dire che se Brozovic non c'ha voglia è colpa di Conte, se Eriksen non c'ha voglia è colpa di Conte e se Perisic non c'ha voglia di fare anche la fase difensiva, perché quest'anno le parole che aveva usato Antonio Conte nei suoi confronti erano state completamente diverse. Troppo comodo lavorare bene solo quando si sente fiducia. Lo dico a chi va a lavorare ogni giorno e probabilmente la fiducia non l'ha mai sentita. Quindi cari malavoglia dell'Inter, cari Perisic e Brozovic ed Eriksen, questa volta il dito scusate ma lo punto contro di voi, augurandomi che sia fin di bene e che mi smentiate il più in fretta possibile. Non so chi di voi giocherà, non so chi di voi giocherà, ma vorrei che cominciaste a smentirmi, a dire che non capisco niente, che non è vero che siete dei malavoglia già domani sera col Borussia Mönchengladbach. Però lo dovete fare, però lo dovete fare, perché così ragazzi va bene tutta la responsabilità di Conte, ma così non va, non andate voi, così non andate bene voi. Un saluto amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV e del sito Gianluca Rossi.it, attendo risposte dai malavoglia dell'Inter, ciao a tutti.